Bentornati su MyFootballGersy. Torniamo in Italia per vedere la terza maglia del Napoli per la stagione 22-23 in edizione fan, la maglia della squadra che in questo momento sta incantando in Italia e in Europa. Prosegue anche per la stagione 2022-23 la collaborazione di Emporio Armani con il Napoli. Dopo le due maglie con la texture con logo dei partenopei e le sfumature sulle maniche c'era grossa attesa per la rivelazione della terza maglia. Le attese questa volta sono state un po' deluse in quanto si tratta di una maglia simile a quella dei portieri per texture con un colore diverso. La maglia Blue Navi è A7. Napoli presenta un design pixel che si intreccia al tessuto tecnico per una resa efficace e duratura. Il design richiama il tema acqua. Costruzione delle maniche Reglen con motivo in degradé su materiale armaturato stretch. Dettaglio a V sul retrocollo. Trasfer sul retrocollo con lettering SSCN. Bella vero? Nella mia classifica questa prende 4 stelle. È sicuramente una maglia ben fatta con delle ottime rifiniture e un'ottima qualità. Al costo che vedete qui sopra, che peraltro include anche le spese di spedizione, veramente un affare da non perdere. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto trovate anche un link per un coupon da 5 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio la parte finale. Spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.